Oggi lunedì 28 agosto è il giorno clou della perdonanza celestiniana, la 729esima edizione con la città dell'Aquila che si ferma per assistere al corteo della bolla e naturalmente anche all'apertura della Porta Santa. Tutti quelli che non lo faranno dal vivo potranno seguire l'evento come sempre in diretta su Rete 8 a partire dalle 15.30 ma per raccontarci di più di questa giornata in collegamento in diretta per noi Daniela Rosone. Buongiorno Daniela. Buongiorno Marina, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete 8. Con me c'è un ospite, Don Juan de Dios Vanegas, parroco di Sassa. Questo è il giorno più importante, dicevi giustamente tu, è il giorno dell'apertura della Porta Santa. Prima ci sarà il corteo storico della bolla, altro evento rappresentativo, molto importanza della perdonanza celestiniana, numero 729, lo ricordiamo come edizione. Un corteo che prevede diverse novità perché si riparte da Piazza Palazzo, da Palazzo Margherita dove c'è stata prima del terremoto la residenza municipale, prima novità. Poi il corteo sarà scortato per la prima volta dal quarto reggimento carabinieri a cavallo, anche questa una novità. Tantissimi figuranti, gruppi neocostituiti, un corteo che con le figure principali, poi Dama della Bolla, Dama della Croce, Giovin Signore, attraverserà le vie del centro storico prima di arrivare qui alla Basilica. E qui alla Basilica ci sarà proprio il momento più importante, poi l'essenza della perdonanza, il messaggio di Papa Celestino. Con Don Juan vogliamo parlare e riflettere proprio di questo, la venuta del Papa l'anno scorso, Papa Francesco, il primo pontefice ad aprire la Porta Santa, ha innescato tutto un meccanismo, ha eletto innanzitutto l'Aquila, capitale del perdono, ci ha concesso questo grandissimo dono dell'indulgenza per un anno, è stato l'anno della misericordia. È un messaggio Don Juan che si rinnova ed è questa poi l'essenza della perdonanza. Sì, io sono convinto che questa festa, essendo unica nel mondo, sia un qualcosa che dobbiamo trasmettere davvero a tutti. Molte persone non sanno neanche di questa realtà e penso che sia giusto, dal momento in cui è stato il Papa Francesco qui da noi, risaltare veramente il valore del perdono. Quindi un anno fa lui ci ha graziati, permettendo che durante un anno noi potessimo vivere l'anno della misericordia all'Aquila e quindi è una cosa veramente meravigliosa per tutti noi. Don Juan, il perdono, lei è un sacerdote, è un tema però molto complesso, molto complicato. Papa Francesco ha detto che bisogna perdonare. Quanto è difficile però poi nella vita quotidiana? Celestino questo messaggio ce l'ha lasciato, ma non sempre ci riusciamo. Io penso che la cosa fondamentale è iniziare per perdonare noi stessi, dal momento in cui tu sei consapevole che hai commesso uno sbaglio, devi perdonarti. Subito dopo devi chiedere il perdono, in questo caso a Dio. Il Papa Celestino V ha permesso a noi aquilani, in realtà a tutte le persone che arrivano fino qua, di ricevere questa grazia del perdono. In che modo? Confessandosi, passando per la Porta Santa, visitando la Basilica e facendo alcune preghiere. Però ripeto, penso che la cosa fondamentale sia quella di donare agli altri quello che vorresti ricevere tu, no? Questo è il perdono in realtà. Una cosa importante però, Don Juan, è che la visita del Papa non sia una vera misita, una vetrina così di un anno. Che quel messaggio si riesca a incardinare davvero all'Aquila, a portare i pellegrini, a far conoscere questa storia che, lei lo diceva bene in apertura, alcuni non conoscono. Certo, guarda, io sono convinto, sono ormai 22 anni che sono all'Aquila e mi meraviglio per il fatto che, essendo l'unica Porta Santa fuori Roma, non sia conosciuta in tutto il mondo. Questo dovrebbe essere veramente esponenziale per la città dell'Aquila. Penso che ultimamente, in questi anni, grazie agli arcivescovi, no? Monsignor Volinari, arcivescovi Merito, Monsignor Petrocchi, adesso Monsignor D'Angelo, veramente siano riusciti a far conoscere questa grande festa, la festa del perdono, che noi abbiamo la grazia di vivere qua. Infatti, ho detto questa settimana in parrocchia che non possiamo non approfittarne, noi che viviamo all'Aquila, di vivere questa festa del perdono. Nominava il Cardinale Petrocchi, che è stato davvero determinante per portare qui Papa Francesco. Marina, io non so se tu hai domande da studio, altrimenti vi restituiamo la linea. Ovviamente ricordiamo la diretta di Reteotto, come ogni anno, dalle 15.30.